ciao a tutti bentornati sul canale come state cosa fate di bello fatemi sapere scrivetemi qua sotto da voi è arrivata la primavera qui no cioè sembrava di sì fatto un caldo due tre giorni poi invece ha ricominciato il freschettino e adesso è uscito un po di sole ma fuori fa abbastanza freddo perché c'è un vento gelido va bene quindi queste sono delle importantissime notizie meteo ma oggi sono qua per il video di tiger e ho due buste di tiger quindi vi faccio vedere cosa ho trovato di interessante di carino vi dico che questo periodo da tiger ci sono c'è una collezione di ispirazione giapponese perché ci sono tutti questi fiorellini giapponesi un po dappertutto poi vabbè ci sono le cose di pasqua che sono un po sempre le stesse devo dire le stesse che ho visto anche gli anni scorsi quindi non ci sono tante novità dal punto di vista appunto pasquale ma questa collezione giapponese è proprio carina e adesso ve la faccio vedere vi faccio vedere quello che ho preso io perché naturalmente non ho comprato tutta la collezione ma questo era logico allora vi faccio vedere ho preso queste che sono delle salviette dei panni microfibra appunto di ispirazione giapponese per questi qua sono i fiorellini che stanno un po su tutte le cose naturalmente questi sono blu poi ci sono gialli ci sono rosa verdi mi pare e quindi niente queste qua sono carine appunto per pulire volete sapere anche il prezzo forse sì allora questi costano due pound allora poi ho preso a questi che sono quei piattini piccolini dove si poggiano le bacchette quando mangiate appunto sushi o zuppette varie orientali appunto con le bacchette e quindi io ho preso questi sono due fiori c'erano anche le foglie carine e poi non mi ricordo c'era anche un'altra cosa noi c'era la barretta semplice e appunto io ho preferito prendere i fiorellini e quindi rimanere in tema di questo colore qua c'erano anche le ciotole c'erano anche le tazzine c'erano anche delle ciotole con dentro il bucco per metterci le bacchette molto carino andiamo avanti allora poi in questa busta in questa carta velina appunto con tutti i fiorellini giapponesi non c'è una cosa un ripieno di crema che mangiano gli americani mangia anche omer simpson e c'era tutto un set la tazza poi c'era il piattino con i buchetti per metterci gli spazzolini poi c'era anche il dispenser per il sapone quindi questa diciamo che non è una tazza per bere una tazza per metterci qualcosa io lo voglio mettere sulla mia scrivania e dentro ci metto appunto le matite le cosette che mi servono quindi eccola qua volete sapere il prezzo forse sì allora vediamo un po quanto sarà costata è costata tre pound diciamo che questi prezzi tre pound penso che corrisponderanno a 3 euro è bella questa carta velina mi dispiace un po buttarla ma non ci faccio niente la butteremo poi ho preso ha del questo il nastro adesivo washi tape sempre l'ispirazione giapponese allora ci sono e sarà difficile farvi vedere da questa parte c'è questo animaletto simpatico una specie di topolino non lo so e di qua ci sono i coni gelato soft eyes su rosa ma ci sono anche i sushi c'erano diverse cose però questi qua mi sembravano più simpatici e diversi e questi due un pound ve lo ricordo non vado a guardare lo scontrino andiamo in quest'altra busta allora ci sono le spugnette di ispirazione giapponese rosa abrasive quelle per pulire insomma le pentole quello che è oppure non so anche per pulire il lavandino e l'immagine non so se si capisce ma c'è il sushi provo a girarlo forse si capisce questo qua il sushi sopra il viso con sopra il pescettino voilà e sono proprio carine queste non potevo lasciarle in negozio mi dispiacerà utilizzarle però io sarò perché sono troppo simpatiche ma mi piacciono questi piccoli gadget che vanno comunque a rendere più allegra non so la cucina il bagno sono delle cose piccole e pronto mettono allegria perciò mi piace tiger allora ho fatto la scorta dei dei tovagliolini e questi tovagliolini qua voi lo sapete costano ve lo dico sempre un pound ogni pacchetto in ogni pacchetto ce ne sono 20 allora ho comprato quello giallo il tovagliolini pacco con i tovagliolini gialli e con sopra l'animaletto e il dolcino poi ho comprato una serie di questi con i fiori questi fiori sono proprio belli molto primaverili speriamo che arrivi la primavera anche se quest'anno l'inverno mi ha volato mi dispiace anche un po perché a me l'inverno piace allora questi qua rosa poi questi che sono con lo sfondo blu poi ne ho preso un pacchetto con questo verde menta e poi ne ho presi due con gli arcobaleni ma proprio ho fatto una bella scorta perché mi erano finiti da ultimo era andata da ikea e ho comprato il mille salviette ma non mi piacciono per niente sono più grandi di quelle di tiger però non vanno bene e poi alla fine ho preso questo che è questa che è un insalatiera c'erano c'erano di tanti colori belle poi tutto il set c'era quella più grande più piccola quella media io ho preso quella grande ma queste mi servono per gli impasti per le mie torte queste sono sempre molto utili quindi ho preso questo qua queste si possono anche mettere in lavastoviglie quindi è carino il colore e quindi questo qua è tutto il mio shopping da tiger di questo periodo questa collezione così diciamo giapponese voi avete comprato qualcosa fatemi sapere scrivetemi cosa avete comprato visto anche tante maschere di bellezza però come sapete l'altra volta ne ho provata una ma non è che mi sono trovata poi così bene allora non le ho riprese c'erano anche quelle a loro visto però ho lasciato perdere e niente quindi fatevi un giretto da tiger fatemi sapere cosa acquisterete cosa avete acquistato spero che questo video vi sia piaciuto che vi abbia tenuto un pochetto di compagnia questo è uno dei video che vi piacciono di più insomma su questo canale quindi io quando posso ve lo faccio ve lo giro insomma un pochetto giro video con con la costanza che avevo prima però mi raccomando continuate a seguirmi tornerò ad essere più precisa e più puntuale quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao